Ciao a tutti e benvenuti sul canale Sconti e Volantini. Oggi vi parlerò delle nuove offerte del volantino Lidl dedicate al fai da te, con prodotti Parkside in promozione per pochissimi giorni, dall'11 al 13 ottobre. Questa volta, a differenza delle altre, le offerte sono molto limitate, ma ci accontentiamo. Se siete interessati, vi consiglio di affrettarvi, perché potrebbero finire rapidamente. Restate con me per scoprire tutti i dettagli. Il traforo elettrico è ideale per tagliare materiali come legno, plastica, vetro acrilico e gesso. È dotato di un banco di lavoro in alluminio con scala graduata e una luce LED integrata. Con una potenza di 120 W, il numero delle corse varia da 500 a 1700 al minuto. L'angolo obliquo è regolabile da 0 a 45 gradi, permettendo un taglio massimo di 50 mm a 0 gradi e 22 mm a 45 gradi. È compatibile con lame lunghe 134 mm e il suo prezzo è 69 euro. Abbiamo poi un faro LED da lavoro, che offre due livelli di luminosità regolabili, con una base inclinabile per facilitare l'orientamento della luce. La luminosità massima è di 4500 lumen, con una temperatura di colore di 6500 Kelvin, che corrisponde a una luce bianca fredda. Questo faro è progettato per illuminare ampi spazi e garantire una buona visibilità anche durante i lavori più impegnativi. È disponibile al prezzo di 24,99 euro. Per ultimo, abbiamo il nastro da pacchi, venduto in confezione da tre pezzi, con una dimensione di 66 metri, per 50 mm per ogni rotolo. L'intero set ha un prezzo di 3,99 euro. Grazie per aver seguito il video. Se hai già acquistato uno dei prodotti elencati o se pensi di farlo, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. Sono curioso di conoscere le vostre opinioni. Non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato su tutte le prossime offerte e novità. Ci vediamo al prossimo video.